Eccoci qua, buonasera, una giornata che ha alcuni fatti importanti, non solo la Grecia questa sera, perché il Parlamento oggi, la Camera, ha approvato in via definitiva la riforma della scuola e sapete con quante polemiche è stato accompagnato il percorso di questo provvedimento e anche oggi ci sono proteste degli insegnanti, ma soprattutto ci sono state proteste anche clamorose delle opposizioni in aula e dato politico invece più inquietante per il Governo sono mancati 24 voti del PD alla riforma nella sua votazione decisiva, vedremo cosa c'è dentro al provvedimento che ripeto però il personale della scuola docente non continua a contestare anche dopo l'approvazione definitiva, ma vedremo anche un'altra vicenda parlamentare che ha fatto molto discutere, alla fine quella decisione di togliere i vitalizi agli ex parlamentari che si fossero macchiati di reati che hanno comportato condanne definitive appena alte, quella decisione ha portato soltanto a levare il vitalizio, verrebbe da dire, diremo così nel titolo ai soliti sospetti, i soliti noti, ovvero Berlusconi e Dell'Utri e pochi altri e c'è la protesta di molti che dicono si poteva fare di più, togliere i vitalizi a tanti altri, non soltanto a uno sparunto gruppo di ex parlamentari. Poi andremo alla Grecia, allora e cosa bisogna dire? Che il barometro segna meno brutto dei giorni scorsi, obiettivamente oggi sarebbe un azzardo dire come invece nei giorni scorsi è stato detto che la cosa più probabile è l'uscita della Grecia dall'euro e forse anche dall'Unione Europea e la Grexit si allontana nonostante la deadline, il punto d'arrivo, l'ora conclusiva si avvicini, è domenica, è domenica il giorno del vertice dei leader dei principali, anzi di tutti i paesi dell'Europa a 28. Vedremo e nel frattempo Atene attende e ci sono voci, ma quanto vere, quanto diciamo così terroristiche di generi alimentari, soprattutto medicinali che scarseggiano sempre di più di liquidi, questo è vero, è che non mi riferisco a quelli da bere, i liquidi delle banche, i liquidi dei bancomat che sono sempre meno, ma lunedì le banche dovrebbero riaprire, soprattutto nel caso diciamo del piano A, quello che si verifica, si trova un accordo e tutto torna nell'alveo della normalità, ben poco normale che ha caratterizzato i rapporti da Grecia e Europa negli ultimi anni. Andremo poi però a vedere ancora altro, innanzitutto in una giornata segnata da un bruttissimo episodio di Cronaca, un bambino che ha perso la vita nel vano di un ascensore della metropolitana di Roma, proprio nei giorni delle polemiche su quella metropolitana, oggi però è stato reso noto quello che dice il prefetto di Roma riguardo all'indagine su Mafia Capitale e le infiltrazioni nell'amministrazione comunale. In qualche modo Gabrielli assolve Marino, lui immune da quelle infiltrazioni che però sono ancora presenti negli uffici capitolini e quindi bisognerà operare col bisturi. Avremo tempo se ce la facciamo a parlare anche del Papa e di un incredibile incontro con una delle figure più note e controverse della scena latinoamericana. La riforma della scuola e legge la Camera dei Sì 277, i No 173 in una seduta movimentata dalle proteste in Lega, Selle e Cinque Stelle che hanno esposto cartelli contro la legge. Caos nel PD, cinque deputati hanno votato contro altri 24 della minoranza che erano fuori dall'aula, compresi Bersani e Cuperlo. A favore hanno votato invece 4 di Forza Italia vicino a Verdini. La riforma prevede l'investimento, il primo dopo molti anni di 3 miliardi in più per istruzione al quale, come si sa, si affianca la regolarizzazione di circa 100 mila precari. Tra i punti centrali della scuola riformata, i nuovi metodi di valutazione di insegnanti e più poteri presidi, ma proprio dai docenti arrivano grandi proteste e annunci di ricorsi. La Grecia sta preparando un piano di riforme da 12 miliardi che presenterà domani a Bruxelles. Tagli alle spese, aumenti di tasse per chiedere all'Europa un nuovo programma di aiuti. Sabato riunione dell'Eurogruppo, la Grecia guarda col fiato sospeso alla trattativa, le borse ci credono e rimbalzano tutte. Stop ai vitalizi per 18 ex parlamentari condannati per gravi reati. I provvedimenti decisi oggi riguardano ex deputati 10, ex senatori 8, tra i quali Berlusconi e Dell'Utri. Forza Italia non ha partecipato alla riunione che ha preso la decisione. Il Movimento 5 Stelle attacca i vitalizi, vanno tutti sospesi, non solo a questi qui. Roma è una città devastata dalla corruzione e dalla cattiva amministrazione, ma non emerge la necessità dello scioglimento del Consiglio Comunale. E questa è la conclusione della relazione del prefetto della capitale Gabrielli al ministro Alfano. Per Gabrielli la giunta marino ha fatto segnare una discontinuità rispetto a quella alemanno, ma anche il nuovo sindaco è stato debole. Nella visita del Papa in America Latina, caratterizzata da folle immense, c'è anche un episodio assolutamente incredibile. In Bolivia è stato accolto dal presidente Evo Morales con due doni, un crocifisso su falce e martello e foglie di coca. Il messaggio che lancia Francesco è chiaro, avidità e egoismi hanno oscurato la storia boliviana. Ora il momento dell'integrazione. Buonasera, questa sera non apriamo con la Grecia, è sempre al centro dell'attenzione di tutti, ma c'è un fatto italiano che ha provocato, come sappiamo, tantissimi scontri, tanto dibattito, tanta attesa. Da oggi la legge sulla scuola, la riforma, la buona scuola, o come è stata variamente chiamata quella legge, Renzi Giannini potremmo dire, quella legge è approvata ed è a tutti gli effetti la nuova giurisdizione per quanto riguarda il mondo della scuola. Ma questo vuol dire che le battaglie probabilmente non sono finite, non saranno più in Parlamento ma fuori sì. Cominciamo però dall'aula della Camera. L'approvazione arriva a mezzogiorno in un'aula infuocata dalla rush finale del dibattito. La riforma della scuola è legge, 277 sì, 173 no e 4 astenuti. Numeri che evidenzano il fronte variegato delle opposizioni, compatto sul no, con l'eccezione di 4 deputati verdiniani di Forza Italia, che votano con la maggioranza, segnale a Matteo Renzi e a Palazzo Chigi. Ma l'ultimo passaggio parlamentare della riforma fotografa anche il solco, sempre più profondo, nel PD, con 5 della minoranza del partito che dicono no, tra loro Alfredo Dattorre e 24, tra i quali Pierluigi Berzani, Roberto Speranza e Rosi Bindi, che non partecipano al voto. A Montecitorio le opposizioni, che contestano soprattutto l'esclusione dalle assunzioni dei precari di seconda e terza fascia, il ruolo rafforzato dei presidi, che in futuro decideranno chi assumere, e i soldi alle scuole private, a scapito di quelle pubbliche, scegliono le proteste plateali. La Lega espone i cartelli con la scritta Giù le mani dai bambini, riferimento alla teoria gender, sull'identità sessuale, che secondo il Carroccio sarebbe una concessione alle rivendicazioni omosessuali introdotta dalla riforma. Il vicepresidente della Camera, Roberto Giacchetti, invita i leghisti a mettere da parte i cartelli. Di fronte alle resistenze, espele il capogruppo Massimiliano Federiga e interrompe brevemente la seduta. Poi, alla volta dei parlamentari di SEL, anche loro hanno preparato dei cartelli, questa volta il riferimento è alla vicenda greca. C'è scritto Ochi, cioè no, alla buona scuola di Renzi. I Cinque Stelle si appellano al Capo dello Stato perché non firmi la legge, si alzano tutti in piedi per leggere in coro gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, quelli sull'uguaglianza, la scuola pubblica e l'insegnamento. Declamati fino all'ultima parola, nonostante i richiami per il tempo scaduto da parte di Giacchetti. Questo è il vostro modo di rispettare democraticamente gli altri colleghi. Questo è il vostro modo di essere democratici. È bene che si conosca comunque, è bene che si conosca. Abbia pazienza, non le vuole Malpezzi. Prenda la parola. Per il PD replica Simona Malpezzi, anche lei non rinuncia al colore. La buona scuola è la scuola dei più. Più risorse, 4 miliardi, leggetevi la legge di stabilità, raddoppio del fondo del funzionamento degli istituti. Significa, per intenderci, che ci saranno i soldi per la carta igienica. Se ve lo dobbiamo spiegare in un altro modo, vi facciamo lo schemino. Gli insegnanti hanno già annunciato la raccolta delle firme per un referendum abrogativo su cui le opposizioni potrebbero convergere. Siamo pronti a sostenerlo, fa sapere il capogruppo di Forza Italia, Renato Brunetta. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni sosterremo tutte le iniziative di lotta che il mondo della scuola promuoverà senza escludere i referenti. Questo è quel che è accaduto all'interno della Camera e tra le forze politiche. Tra poco vedremo la reazione degli insegnanti. A prima è doveroso, anche per capire quali sono i punti di frizione, vedere cosa c'è in questa legge che appunto da oggi è di tutti. La prima notizia della riforma è che nell'istruzione verranno investiti 3 miliardi in più rispetto al passato. Poi ci sono i punti del cambiamento, una decina per alcuni per altri, più precisi o più pedanti, molti di più. Ma tra tutte le novità della nuova legge sulla scuola, approvata infine dopo 10 mesi di dibattiti, polemiche e qualche modifica, sono state due a tenere più di altri, come si dice, banco. Riassumibili nel quanti e nel come riguardano tutte e due gli insegnanti. Il quanti si riferisce a quelli che saranno assunti, il come riguarda il come saranno giudicati. Ma per quest'anno però cambierà poco o nulla. Come è noto sono oltre 100.000, 100.701 quelli che saranno regolarizzati, ma dal prossimo settembre saranno assunti con le vecchie regole solo quelli che andranno a coprire i posti disponibili e vacanti. Tutti gli altri entreranno al momento dell'effettiva presa di servizio. Nel 2016 entrano in scena i famosi nuovi presidi incaricati di dare senso con le loro scelte a una parola che in Italia ha sempre fatto una certa fatica ad affermarsi, meritocrazia. Saranno loro a chiamare direttamente e poi anche a premiare gli insegnanti. Per i favorevoli alla riforma, una vera svolta manageriale e antiburocratica per i detrattori. Il rischio, se non la certezza, senza più le tradizionali graduatorie, di scelte dettate da criteri troppo soggettivi, per quanto affiancati i presidi da comitati composti di sette membri, oltre al preside quattro docenti, due genitori e uno studente, e sulla scorta di linee guida nazionali. Nel testo si specifica che il preside è tenuto a dichiarare eventuale stato di parentela fino al secondo grado. Dal 2016 prenderanno poi forma anche gli ambiti territoriali, definiti in base a tre criteri, la popolazione scolastica, la vicinanza, le caratteristiche del territorio. E' all'interno di questi ambiti che saranno create le reti di scuole, libere poi di sottoscrivere accordi sulla base dei criteri che il Ministero dell'Istruzione si è impegnato a emanare entro quattro mesi dall'approvazione della legge. E poi, andando oltre, più lingue straniere, inglese in testa, la possibilità di introdurre negli ultimi tre anni delle superiori materie opzionali, con la conseguente creazione del curriculum dello studente, scuole aperte durante il periodo estivo, 400 euro di aggiornamento professionale per gli insegnati, tutto in nome di una parola posta spesso a comune denominatore della legge, autonomia scolastica, naturalmente. Questo c'è nella legge sulla buona scuola, nella riforma, nel testo Renzi-Giannini, chiamatelo come volete. Sicuramente questo non soddisfa molta parte degli insegnanti. Ribolle ancora una volta davanti a Montecitorio la protesta degli insegnanti. Rabbia e lacrime, ma non rassegnazione. La scuola è pubblica e non si tocca! La ripenderemo con la lotta! La buona scuola viene bocciata senza appello, giudizi pesantissimi sui contenuti del provvedimento e sulla gestione del percorso che ha portato all'approvazione. Accusa la CGL, oggi è stata scritta una pagina nera per la democrazia del nostro paese, perché la scuola è fondamentale per salvaguardare la democrazia. Tutti stigmatizzano la mancanza di confronto. Per la CISL, le piazze affollate non sono espressione di una resistenza corporativa al cambiamento. Su ogni aspetto, toccato dalla legge, dalle assunzioni alla gestione del personale, alla valutazione, alla valorizzazione del merito, esistono precise e argomentate proposte che il governo non ha mai tenuto in considerazione e sulle assunzioni, denuncia il sindacato, i numeri dati risultano inconsistenti. Per l'associazione degli insegnanti Gilda, la buona scuola è una riforma contro l'istruzione, imposta con arroganza da un unico partito che ha soltanto finto di ascoltare, ma in realtà è rimasto sordo per mesi al coro unanime di protesta sollevato da tutto il mondo della scuola. La nota definisce profondo e irreparabile lo strappo voluto da quello stesso partito che durante il governo Berlusconi contestava al ministro Gelmini, affermando che la scuola era un bene comune e quindi la riforma doveva essere condivisa. Ma c'è un altro leitmotiv oltre a quello della mancata condivisione, un arrivederci a settembre che è una minaccia. Maestri e professori evidenziano diversi profili di incostituzionalità e garantiscono non finisce qui la riforma approvata col dissenso dell'intera scuola pubblica uscirà da Montecitorio per entrare nei tribunali. Si preparano decine di migliaia di ricorsi. Vedremo poi alla fine, e cioè all'inizio del nuovo anno scolastico, e quanto sarà ampio il dissenso che si verificherà nella vita di tutti i giorni negli istituti rispetto alla nuova legge sulla scuola. Ma c'è un'altra vicenda che, come sappiamo, tiene banco. Ne parleremo subito dopo aver visto i servizi sulla Grecia, perché oggi in Parlamento è stata molto forte anche la polemica sulla questione dei vitalizi. Prima però, doverosamente, la Grecia. È il giorno, come sappiamo, della vigilia del momento in cui la Grecia formalizzerà il governo Tsipras le sue proposte finali all'Europa. E poi, domenica, ci sarà l'ultima parola, quella dell'incontro tra i leader dei 28. Ma bisogna già dire che per quel che è trapelato c'è meno pessimismo. E' atteso a ore, forse a minuti, il piano dettagliato di riforme che il governo greco deve presentare se vuole arrivare ad un accordo con i creditori su un nuovo programma di aiuti richiesto ieri in una lettera al Fondo Salva Stati, ESM, dal ministro delle finanze Tsakalotos. La richiesta è per un prestito triennale la cui entità non è specificata da più parti, però la valutazione che filtra coincide con quella fatta dal Fondo Monetario Internazionale, 50 miliardi. Per ottenerli sarà fondamentale appunto il programma di riforme che il premier Tsipras presenterà all'Eurogruppo. Sul suo contenuto al momento non vi sono certezze, ma possiamo solo basarci sulla lettera inviata al Fondo Salva Stati, che parlava di misure immediate su pensioni e tasse, e su indiscrezioni riportate dalla stampa greca. Si tratterebbe di un pacchetto da 12 miliardi di euro in due anni, 4 miliardi in più rispetto a quanto inizialmente previsto dal governo. Qualcosa che sembrerebbe ben più pesante di quanto votato e bocciato dal referendum. Quasi inspiegabile, se non che, lasciata la politica, si entra nella tecnica e l'appesantimento dovuto al peggioramento dell'economia greca, che nel 2015, invece di crescere dello 0,5%, dovrebbe contrarsi del 3%. La stampa ellenica fornisce ulteriori dettagli sul merito delle misure, in particolare in campo fiscale, con l'aumento dell'imposta sulle società dal 26 al 28%, e il passaggio all'aliquota IVA superiore per molti settori, compresi alberghi e ristoranti, ma il mantenimento dell'IVA agevolata per le isole per non pesare sul maggiore punto di forza del Paese, ovvero il turismo. Sul fronte delle pensioni, invece, al momento tutto tace, ma difficilmente nel piano mancherà lo stop ai prepensionamenti. Una volta ricevuto il piano di riforme, conosciamo bene le tappe fondamentali per evitare la Grexit, l'Eurogruppo di sabato pomeriggio, e poi l'Eurosummit di domenica, seguito dal Consiglio europeo a 28. Se le misure verranno ritenute credibili, il terzo piano di salvataggio della Grecia sarà realtà, a rendere i negoziati ancor più complicati il tema della ristrutturazione del debito, richiesta chiave di Atene. Dalle parti di Berlino non ne vogliono sapere, ma sia il Fondo Monetario Internazionale che il governo americano lo ritengono necessario e inevitabile, e anche il presidente del Consiglio europeo, il polacco Tusk, di solito particolarmente sensibile alle istanze dei rigoristi tedeschi, oggi ha dichiarato che se le proposte greche saranno realistiche e concrete, ci vorranno anche quelle dei creditori sulla sostenibilità del debito. Atene e la Grecia tendono come immaginate, con una frase fatta, sempre viene detto il fiato sospeso, ma pensate con quale ansia davvero si aspetta quella che potrebbe essere la parola fine, in un senso o nell'altro, ma immaginate voi cosa possono preferire i abitanti della Grecia, la fine di un tunnel che dura da sei anni, che è fatto di difficoltà, austerità, imposizione e crisi e perdita di posti di lavoro. In queste ore, fra l'altro, ci sono nuovi fantasmi, non si sa quanto reali o quanto agitati in modo un po' terroristico da chi non vuole un'intesa o non vuole un'uscita. Insomma, il fatto che manchino progressivamente medicinali e generi di prima necessità. La Grecia attende la sua sorte, l'impressione che lo faccia con qualche speranza in più, ma le immagini che manda nel mondo sono sempre le stesse, gente in coda davanti ai bancomat. È difficile stabilire se per il popolo greco il peggio deva ancora arrivare. Lunedì potrebbe essere il giorno dell'uscita di Atene dall'euro, i greci tornerebbero alla vecchia moneta, la dracma, ma il suo valore, insignificante rispetto all'euro, non gli permetterebbe di uscire comunque dal profondo baratro nel quale sono caduti. Quello che è certo è che le banche che hanno le casse vuote resteranno chiuse fino a lunedì, poi si vedrà. Tutto dipenderà dagli accordi del governo con i creditori internazionali. Anche i prelievi limitati a 60 euro al giorno e a 120 alla settimana per i pensionati sono stati praticamente sospesi. Le ripercussioni sulla vita sociale si fanno sentire pesantemente, ancora incombe lo spettro del prelievo forzoso sui conti correnti. I beni di prima necessità scarseggiano e chi può cerca di fare scorte dai generi alimentari ai farmaci. Ma anche se fossero ancora disponibili con quali soldi si potrebbero comprare visto che le carte di credito non vengono accettate ed il contante non viene erogato. Negli ospedali molti interventi chirurgici sono stati annullati perché i medici rifiutano di operare pazienti ai quali non possono garantire il decorso post-operatorio che ha bisogno di assistenza farmaceutica. Nei ristoranti anche i turisti, la vera risorsa del paese, possono saldare il conto solo con il contante. Ma nella quotidianità di un paese in banca rotta c'è anche da raccontare la storia con i lieto fine e quella di Giorgos, il pensionato 77enne che all'ennesimo rifiuto ricevuto in banca per poter riscuotere la pensione della moglie si è lasciato cadere in terra. Quell'immagine da un paio di giorni ha fatto il giro del mondo ed è presto diventata un'icona. Una storia andata in scena nella città di Salonico ma con il finale scritto dall'altra parte del mondo, in Australia, da James Kufos, una dirigente di una società finanziaria di origine greca. Nell'uomo disperato ha riconosciuto un amico del padre scomparso. La pensione ha fatto sapere gliela pagherà lui. Non è così però che si risolve ovviamente il dramma di sei anni di austerità imposta e non ben applicata comunque si creda a tutta la Grecia. Vediamo però come a scommettere su un'intesa, sul lieto fine, chiamiamolo così, siano soprattutto i mercati azionari e finanziari. È l'altro mondo delle borse dove i miliardi un giorno bruciano ma quello dopo magari resuscitano e oggi resuscitano dando una straordinaria ma autentica interpretazione del paradosso borsistico. Solo ieri si parlava del mix micidiale, Grecia e Cina insieme, roba da mandare tutto e tutti al tappeto e oggi sempre lo stesso mix si trasforma invece in un balsamo rilassante perché in Cina quando si tratta di soldi sanno come si fa. Come si fa? si prolunga la festa, si protrae la bolla speculativa iniettando liquidità, quantità tv-easing alla cinese, vietando agli azionisti forti di svendere azioni. E poi la Grecia dove i soldi e la festa sono invece finiti e il quadro è che ci sia un accordo perché stavolta sono finiti davvero. E l'avvicinamento a questo possibile accordo, possibile e vari condizionali d'obbligo, è dato dalla cronaca di una giornata rappresentata alla perfezione dal grafico dell'indice di riferimento milanese. Apertura alle 9, si sale, si sale, si sale, da sinistra verso destra scorre il tempo e cresce la speranza. Alla fine Piazza Affari guadagna il 3,5%, finale sui massimi che denota tendenza. Significa cioè che domani si dovrebbe ripartire da lì da una sensazione di fiducia. La stessa mostrata oltre che dal gustoso rimbalzo milanese dai saldi positivi sopra i due punti di Parigi e Francoforte. Londra meno Dana Rosa perché la storia riguarda più l'Eurozona che l'Europa e lei l'Euro non ce l'ha. L'Eurozona a proposito. Con il Fondo Monetario Internazionale ci si era lasciati un paio di sere fa con la gelida avvertenza che l'Italia avrebbe sofferto un impatto sostanziale dalla tragedia greca. Se sarà più tragedia che commedia. Nemmeno fosse un colpo di spugna oggi lo stesso istituto guidato dalla candida Christine Lagarde spiega che l'Eurozona non deve temere contagi. All'Italia il Fondo aumenta anche le stime di crescita economica al 7% mentre il ministro Padoan in Senato ricorda che siamo più forti ora che nel 2012 più forti cioè di quel paese che venne azzannato dalla speculazione. Tema scaramanticamente declinato al passato remoto ma brucia ancora. Una giornata di ordinaria follia l'ha definita uno degli esponenti di punta dell'opposizione Luigi Di Maio vicepresidente del Movimento 5 Stelle della Camera. Parole dure per che cosa? Per cose è accaduto nell'applicazione di quella delibera famosa delle presidenze di Camera e Senato sul togliere i vitalizi agli ex parlamentari condannati. è un segnale di moralizzazione della politica aveva detto Laura Boldrini nel maggio scorso quando il taglio dei vitalizi ai parlamentari condannati a più di due anni con reati gravi divenne realtà ma a guardare adesso l'esito di quella battaglia sembra di vedere la classica montagna che partorisce il topolino. Il vitalizio almeno per ora viene tolto ad appena dieci ex deputati e otto senatori sfigati senza più protezione politica dice Luigi Di Maio direttorio 5 Stelle pronto a dare battaglia perché noi chiediamo la cancellazione di tutti i vitalizi linea sulla quale anche il PD si sta adeguando giusto oggi Matteo Ricchetti ha chiesto di abolire vitalizi passati presenti e futuri è finito il tempo dei pannicelli caldi dice Ricchetti eppure quello messo in pratica oggi sembra proprio un pannicello caldo perché l'esercito dei beneficiati è forte fortissimo sono 1548 gli ex con bonifico ad ogni 27 del mese e 1548 o meno 18 non fa granché nemmeno come risparmio complessivamente qualcosa come 500.000 euro l'anno la spesa della camera per toner e cartucce delle stampanti eccoli i deputati senza più pensione Massimo Abbatangelo Giancarlo Cito Robini Ocosti Massimo De Carolis Francesco De Lorenzo Giulio Di Donato Pietro Longo Raffaele Mastrantuono Gian Stefano Milani Gian Mario Pellizzari molta prima repubblica e molta vecchia politica le loro condanne vanno dal terrorismo alla bancarotta fino alle tangenti nomi che si affiancano agli otto del senato oggi Forza Italia è uscita dall'aula al momento del voto sono nomi eccellenti Silvio Berlusconi Marcello Dell'Utri Vittorio Cecchigori Pasquale Squitieri Antonio Franco Girfatti Vincenzo Inzerillo Giorgio Moschetti Franco Righetti dicono i 5 stelle la delibera taglia vitalizi venne festeggiata come la fine di ogni ingiustizia ma i numeri sono quelli che sono e le cifre anche con pensioni ben oltre i 3000 euro e allora con queste cifre quei 10 più 8 mi fanno quasi pena dice Di Maio rappresentano lo 0,6% di tutti quei politici che con tre giorni in Parlamento si sono guadagnati una pensione da Sceicco c'è da parlare di mafia capitale perché è arrivato il giudizio della commissione guidata dal prefetto di Roma Gabrielli sull'infiltrazione appunto nell'amministrazione capitolina ma prima vi devo parlare proprio di un incidente che è avvenuto a Roma nel cadendo nel vano di un ascensore di una fermata della metropolitana è morto un bambino di 4 anni questo ha portato potete immaginare oltre alla disperazione dei familiari anche a proteste arrivando il sindaco di Roma in quella stazione è stato accolto da contestazioni molto dure da parte dei presenti tra l'altro in questi giorni della metropolitana romana si è parlato per altri due motivi degli scioperi che hanno fatto infuriare i cittadini che volevano usufruire di quel servizio e più in generale invece della contestazione sugli appalti della metro C che è ancora in costruzione da parte dell'autorità nazionale anticorruzione ma Marino oggi può pensare di andare avanti perché Gabrielli appunto lo ha virgolette assolto un quadro devastato e devastante definita così l'infiltrazione criminale nel comune di Roma la vigilia dell'inchiesta della procura su mafia capitale 800 pagine fitte di parole frasi sconfortanti che emergono nella relazione consegnata ieri dal prefetto Gabriele al ministro dell'interno Alfano una relazione in cui emerge il condizionamento criminale che si è realizzato secondo schemi e copioni non intaccati dal cambio di amministrazione determinato dell'aggiunta ed avrebbe portato non solo a determinare l'esito delle procedure di appalto ma anche ad orientare le scelte e le vertici di società partecipate da Roma capitale il comune di Roma scrive Gabriele non va sciolto perché a differenza dell'aggiunta alemanno per la quale gli esiti dell'indagine dimostrano una reiterata curvatura delle scelte degli organi di indirizzo politico e amministrativo alle esigenze e agli interessi di quell'organizzazione criminale c'è stata discontinuità ma scrive il prefetto non per una volontà chiara di contrastare il malaffare e l'illegittimità ma semplicemente ispirati agli ordinari parametri di legalità cui di norma dovrebbe uniformarsi l'azione amministrativa che diventano straordinari solo se correlati alla dimensione e alla pervasività del sistema corruttivo svelato dalle indagini giudiziarie ed è per questo che il comune non va sciolto insomma Marino ha fatto segnare una discontinuità ma anche lui in qualche modo ha dimostrato una debolezza nell'amministrazione il Papa il Papa è venuto dall'America Latina e che in America Latina è tornato per la sua missione pastorale forse ne ha viste tante ma non quello che gli è toccato oggi la piazza piena di gente addirittura c'è chi dice due milioni di persone le parole le benedizioni ma alla fine il viaggio del Papa in Bolivia oggi se deve passare alla storia lo farà per questa immagine il presidente Morales che regala a Francesco un crocifisso con la falce e il martello per quel ciondolo che gli metta al collo è una ciuspa la sacchetta della tradizione boliviana che i contadini riempiono di foglie di coca che poi masticano durante il lavoro nei campi un altro giorno del Papa in Sud America nel suo Sud America è grande l'accoglienza al suo arrivo in Bolivia all'aeroporto di El Alto a 4.000 metri di altitudine il pontefice è stato ricevuto da oltre 500.000 persone le masse motorità del paese con in testa il presidente Evo Morales che nel corso di ricevimento al palazzo presidenziale quemado di La Paz ha offerto al Papa quei doni molto particolari il pontefice ha contraccambiato con una riproduzione dell'icona Salus Populi Romani copie in spagnolo dell'enciclica Laudato Si e dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium una visita importante visto che in Bolivia il dialogo tra governo e chiesa locale non è stato facile e lo stesso presidente Morales spesso ha attaccato duramente i rappresentanti della chiesa solo dopo l'annuncio della visita del Papa i rapporti si sono rasserenati rivolgendosi all'autorità boliviane Francesco ha detto che se la politica è dominata dalla speculazione finanziaria e l'economia si regge solo sul paradigma tecnocratico e utilitaristico non si potranno risolvere i grandi problemi che oggi affliggono l'uomo e poi davanti a centinaia di migliaia di persone nel parco Cristo Redentore a Santa Cruz il Papa ha insistito molto sulla solidarietà una vita che fa memoria addetto a bisogno degli altri delle relazioni dell'incontro di una solidarietà reale che sia capace di entrare nella logica dell'amore dopo di noi in onda ci sono Corrado Passera Giorgio Airaudo Giovanni Toti e Matteo Ricchetti ospiti di Paragone Barra ci fermiamo infine Wall Street che oggi funziona Dow Jones guadagna più 0,23% il Nasdaq allo 0,36% è tutto vi lascio in onda buonasera domani grazie a tutti